Allora, leggo ancora tante critiche sulla Juventus, su Pirlo, sul mercato, su Paratici, però adesso io mi rendo conto che con più leggo queste critiche e con più mi sento di difendere, o comunque di capire, di giustificare anche un determinato operato dovuto ad una situazione economica difficile, alla difficoltà di reperire giocatori validi perché chi li ha vuole i soldi naturalmente. Non credo che un operatore di mercato, un direttore generale, un responsabile dell'area tecnica. Operi sul mercato per impoverire la squadra? No, casomai opera per rinforzare la squadra o per evitare che si indebolisca, perché bisogna ragionare anche in questi termini, in questo periodo, in questo momento storico. Venendo al discorso del mercato c'è una bella statistica evidenziata su OneFootball, andatevela a leggere, e che dimostra, dati alla mano, che la Juventus è la squadra che ha beneficiato di più dei gol dei subentrati. 14 gol da giocatori subentrati a gara in corso, quindi sfruttando anche i ricambi, quindi sfruttando anche i nuovi acquisti, nonostante questa risortezza di rosa, specialmente negli ultimi tempi. I gol dei subentrati rappresentano il 19% dell'intero bottino della Juventus. L'Inter, che è prima in classifica, fino adesso, ha avuto 7 gol dai subentrati, il 10%, 7 gol dai subentrati, ed è settima in questa speciale classifica. La Juventus è come l'Atalanta, 14 gol anche l'Atalanta dei subentrati. Questo perché? Perché l'Inter può permettersi, specie nell'ultimo periodo, di giocare praticamente con gli stessi giocatori. Ha un'ossatura particolare, non ha subito tanti infortuni in stagione, ha avuto due o tre positivi al Covid, uno ce l'ha anche la Juventus. Aspettiamo l'esito dei tamponi domani, perché comunque quando c'è un giocatore positivo il rischio che possano, ci si augura di no, innanzitutto per le persone, non per gli interessi di squadra, per le persone in primis. Ci si augura che non ci sia stato un focolaio, che non ci sia un focolaio, però aspettiamo appunto l'esito dei tamponi. Ma la Juventus ha avuto un sacco di infortuni, come il Napoli, come il Napoli del resto, in maniera nettamente superiore rispetto alle altre squadre che lottano per obiettivi che vanno dall'Europa League in su. Quindi riconosciamola anche questa attenuante nel lavoro di Pirlo, che si trova a volte a dover allenare sette giocatori il giorno dopo di una partita, sette giocatori, perché gli altri fanno scarico. Cioè vorrei che fosse chiara una cosa. Quando giochi ogni tre giorni non ti alleni, ok? Praticamente non ti alleni. Allenarsi cosa vuol dire? Nel gergo calcistico potenziare il fiato, potenziare la tenuta atletica, fare dei richiami di preparazione, ok? Quando giochi ogni tre giorni, il giorno dopo la partita c'è la seduta di scarico, c'è gente che si ferma negli spogliatoi, sul lettino a fare massaggi, o va in piscina a fare bagni, o nel bano turco a riprendersi le energie. Il giorno dopo fai un allenamento che è prettamente tattico, la mattina alla partita ripassi la tattica. Di allenamento non ne fai, ecco perché sei soggetto a tanti infortuni, ok? È chiaro che se poi agli impegni che hai normalmente aggiungi Coppa Italia, Champions League, la situazione può peggiorare. In più mettiamoci la componente della casualità, chiamiamola sfortuna, chiamiamola sfiga, chiamatela come volete, certi anni ti gira bene, certi altri ti gira male, certi altri ancora malissimo e quest'anno l'alimento sta girando malissimo, direi, ok? Chi di voi conosceva? Alcuni sì, me l'hanno detto, però io onestamente non sapevo nemmeno l'esistenza del citomegalovirus, che è quello che ha colpito Morata. Il problema di calcificazione ad Arthur, che adesso ha ripreso a correre, ha fatto una visita, sta meglio, però non verrà rischiato domani sera contro la Lazio. I virus intestinali, virus le vie urinarie che ha preso Morata, scusate, Di Bala, oltre ai danni professionali, botta, interessamento all'allegamento all'ultima volta. Cioè, ragazzi, c'è una serie pazzesca quest'anno di situazioni, ok? Adesso capisco perché Pirlo oggi ha detto che si arrabbia quando sente parlare di mancanza di grinta in questa squadra. Come fai ad avere una grinta sempre allo stesso livello quando giochi ogni tre giorni e giocano praticamente sempre gli stessi? Come fai? Come fai a pretendere che un giocatore sputi sangue dal primo al novantesimo minuto, quando magari l'ha già sputato tre giorni prima? È impossibile. Cerchiamo di comprendere qual è la situazione di questa annata. È un'annata nella quale sta girando tutto nel verso contrario o quasi contrario a quello che normalmente uno si aspetta. Quindi le parole di Pirlo vanno intese in questo senso. È difficile per lui lavorare, è stato molto difficile per lui lavorare fino adesso e mi piacerebbe che, credo che la maggior parte dei tifosi l'abbiano capito, ma che anche gli altri capissero questa situazione. Poi non stiamo parlando di una squadra che ha dei giocatori eccellenti come in passato, specialmente al centrocampo, e su questo siamo perfettamente d'accordo, ma voi mi insegnate che se la mancanza di una certa elevata quantità a questa mancanza si può sopperire con la fisicità, allora ottieni determinati risultati. Ma se la fisicità non ha bisogno, non riesce ogni tanto, avendo bisogno di riposare, non riesce ogni tanto a riposarsi, ciclicamente a riposarsi un po' in tutti. E allora diventa difficile pretendere che anche la fisicità vada a sopperire alla mancanza di qualità, o comunque ad una qualità più bassa rispetto ad altre squadre. Manca Bentancur, Pirlo ha detto che bisognerà inventarsi qualcosa. Io ci spero che nell'invenzione ci sia fagioli, sarà difficile dal primo minuto, ma io credo che domani avrà un po' di spazio. Sarà importante avvalersi da parte della Juventus di un giocatore che sa pensare in mezzo al campo, però si misurerà, qualora entrasse, con una squadra di livello nettamente superiore rispetto alla spalla di Coppa Italia e al Crotone in campionato. Quindi non pretendiamo, e non si pretenda da lui, che ti cambi la partita, qualora la partita debba essere necessariamente cambiata. Poi domani tornerà a disposizione Quadrado, che è un elemento fondamentale per questa squadra, fondamentale per questa squadra. Ma credo che sarà l'unico che verrà rischiato domani, perché Bonucci non può giocare, difficilmente potrà giocare dall'inizio, De Ligt verrà valutato soprattutto in chiave porto, e quindi ecco perché ho letto da qualche parte ed è credibile che ci sia la coppia centrale formata da De Miral e Danilo, adattato a giocare centrale. Non è la prima volta, però la situazione è ancora in emergenza. La situazione è ancora in emergenza. Poi, se col porto ci sarà Arthur, sarà una bella cosa, ci sarà Morata all'inizio, sarà una bella cosa. Morata non è dall'inizio neanche domani, è difficile che sia dall'inizio domani. Parte ancora con Ronaldo e Kuluseschi. Ronaldo, attenzione, anche lì quando sento dire ma Ronaldo, eh però Ronaldo, a parte che le butta dentro, ma ragazzi, ma sta giocando tutte le partite, ma che Dio lo conservi alla Juventus Ronaldo. Sta giocando tutte le partite, un paio di queste ultime, in questo ultimo mese, un paio di partite, le avrebbe saltate in un mondo normale, in una situazione normale. Quindi quando vi, il significato di questo video alla fine, quando vi accanite contro la Juventus di quest'anno, a non si tiene conto dei nove anni precedenti, che meritano, che meritano un tantino di rispetto, meritano un tantino di rispetto, b non si tiene conto delle difficoltà in cui sta navigando la Juventus quest'anno. E nonostante questo, questa squadra è terza in classifica, ha quattro punti dal Milan con una partita in meno, quindi con una partita da giocare, ok? Ha una finale di Coppa Italia dopo aver preso una Supercoppa, ha una finale di Coppa Italia il 19 di maggio e ha la possibilità di accedere ai quarti di finale di Champions. Mi viene da dire, e se tutto fosse girato normalmente anche quest'anno? Non si può sapere. Certo, l'Inter sembra avere una marcia in più, vediamo. Però, ragazzi, riflettete bene prima di scagliarvi contro la Juventus quest'anno, rifletteteci bene. Ci ho messo forse un po' anch'io, a parte che non credo di essermi mai scagliato contro la Juventus, però adesso mi rendo conto delle difficoltà in cui sta muovendosi questa squadra, questa società e soprattutto questo allenatore. Iscrivetevi al canale, al prossimo video. Ciao ragazzi!